I contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti e non da TICMIL e danno carattere puramente educativo, non costituiscono nessun incentivo di investimento, chiunque intraprende a questa attività lo fa per sua spontanea decisione assumendosene tutti i rischi, di conseguenza gli autori e TICMIL non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e dagli iscritti e declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti e indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di TICMIL a meno che non sia stato specificato. L'avvertenza sul rischio, i CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva. L'81% e il 73.32% dei conti di clienti al dettaglio perde denaro facendo trading con i CFD rispettivamente con TICMIL UK LTD e TICMIL EUROPE LTD. Valuta se comprendi come funzionano i CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Allora, io sono Giuseppe Cericola, Country Manager Italia di TICMIL. Questa sera parleremo del pattern swing prima di entrare nel vivo del webinar. Come sempre una breve presentazione del broker che rappresento TICMIL, un broker non di InDesk con commissioni tra le più basse e spread a partire da zero. Aspettate che metto in muto il salvatore perché altrimenti si sentiva. Forte regolamentazione della FCA UK e fondi costruiti in conti segregati e separati dalla società e assicurati fino a 50.000 sterline. Non ci sono limitazioni sui profitti, quindi tutti gli expert sono accettati, quindi anche tutte le strategie comprese quelle di arbitraggio. Scalping, non ci sono recuote e grazie alla velocità di esecuzione che ha una media di 0,1 secondo, garantita dagli oltre dieci server sparsi per il globo, c'è anche la possibilità di venire eseguiti con slippage positivi, oltre ovviamente quelli purtroppo negativi. Poi abbiamo un'ampia gamma di mercati, quindi oltre il Forex c'è FD su indici, tra cui il Futsimib, materie prime, metalli preziosi e criptovalute come il Bitcoin. Poi abbiamo uno strumento di trading come la Touch Artist, la VPS, il One King Trading e la demo è limitata. Non ci sono costi su prelevi e depositi, abbiamo anche l'assistenza sulla dichiarazione del capital gain, grazie a due partnership con due studi diversi. Vedete sia l'email di Marco D'Andrea, che è dot.marco.gmail.com, che è il sito di dichiarativo.com. Ok, questa è la mappa dei nostri server, quindi vedete un po' oltre a quelle di Londra, New York e Tokyo, ci sono quelle di backup. Questa è una tabella che potete andare a visionare anche in tempo reale su MyFXbook, che va a comparare gli spread e le commissioni di TickMill con altri broker. Quindi dove vedete che c'è questa tabella che si illumina di verde, significa che le commissioni e gli spread sono più bassi rispetto ai competitor. Questa è grazie appunto alle qualità del broker TickMill, ogni mese registriamo degli interessanti aumenti di volume di trading, quindi nuovi record come quello di settembre dove abbiamo superato la soglia di 117 miliardi di dollari come volume di trading. Siamo stati inoltre premiati qualche settimana fa come miglior broker Forex per esecuzione e ordini, quindi grazie all'esecuzione da 0,1 secondi e questo è il nostro CEO Duncan Anderson. Ok, allora la presentazione del broker è terminata, adesso passiamo, entriamo nel vivo del pattern swing. Mi sentite bene, è vero, in chat perché l'altra volta ho avuto problemi con il microfono, quindi questa sera ho cambiato microfono e sembra funzionare meglio. Allora, qual è la roadmap di questa sera? Andremo a vedere da dove nasce il pattern, la struttura di questo pattern, l'importanza delle onde ricavate dall'RSI, la gestione dello stop loss e del take profit, il filtro di tendenza, la gestione piramidale sfruttando la frattalità, proiezione rendimenti futuri in base alle performance ottenute. Quanti di voi in chat già conoscono il pattern swing? Perché questo pattern ne ho già parlato qualche tempo fa nella chat di Telegram e sono partiti anche diversi progetti che poi vi faccio vedere. E quindi se c'è qualcuno della chat sicuramente già lo ricorda, ok, Max lo ricorda, ok. Questo pattern diciamo che è di mia creazione, adesso non voglio sembrare presuntuoso perché ovviamente ci sono comunque magari, adesso che ve lo spiego, qualcuno di voi magari farà dei paragoni con altri pattern di analisi tecnica, però diciamo che questo pattern è nato da un, nasce dall'azionario, è un pattern che ho identificato sull'azionario solo long, perché sull'azionario vado solo long per ragioni appunto di inottica di buy e hold, però che cosa mi serviva? Un giusto timing di ingresso e quindi andando a vedere un po' i grafici è saltato fuori questo pattern che adesso vi spiego. Quindi questo pattern, come dicevo, nasce dall'azionario e vi faccio vedere adesso un po' di grafici, vediamo se qualcuno magari intuisce qualcosa, vedete questo è il grafico di Facebook, ho cerchiato questa situazione grafica che poi, forse qui un po' più piccolo, si rivede sul grafico di Paypal e anche sul grafico di Amazon, questi sono un po' gli esempi che ho preso di questo pattern, facciamo un po' di screening sui vari titoli e anche questo Netflix, diciamo che questo pattern è molto potente se si mostra su determinate situazioni. Allora, non so se qualcuno, credo che sia un po' difficile adesso riuscire a intuire qualcosa vedendo questi grafici, però hanno degli aspetti in comune. Allora, gli aspetti in comune quali sono? Allora, ci deve essere una falsa rottura di un livello o una divergenza sull'RSI, ci deve essere un'onda rialzista con almeno tre barre appunto rialziste, deve esserci poi una barra di respiro contro trend e deve trovarsi in prossimità di una media mobile, questa ad esempio sul cento periodi. Se vado sul grafico di Facebook, ve lo faccio vedere meglio. Allora, questa era l'immagine che ho messo nella slide. La falsa rottura è di questo livello qui, del livello 116. Poi adesso nel corso del webinar ve lo faccio vedere in modo oggettivo, cioè dovete riuscire comunque a riconoscere in maniera oggettiva. C'è anche una divergenza, mi aiuto con i disegni. Allora, questo qui è l'ultimo swing, l'ultimo minimo che Facebook fa. Il prezzo cerca di rompere questo minimo, quindi che ho segnato. Vedete che c'è anche una divergenza in questo caso sull'RSI perché i prezzi scendono, però l'RSI non accompagna la discesa, quindi molto classico da analisi tecnica. Dopodiché arriva un'onda rialzista fatta almeno da tre barre rialziste, quindi in questo caso una, due, tre, quattro, ben cinque barre. Poi che cosa succede? C'è un respiro di questa onda rialzista che solitamente avviene con una barra, io che chiamo barre contro trend, cioè la barra contro trend è semplicemente una barra rossa, visto che le altre sono state verdi, quindi contro trend perché va contro questa onda rialzista. E la caratteristica, diciamo, questa è la versione standard del pattern, poi ovviamente se qualcuno appunto apprezza poi queste qualità del pattern può diventare anche più aggressivo, però diciamo che io cerco di trovare questo pattern solo su una media mobile, quindi che siano delle medie mobili, diciamo, alcune definiscono istituzionali, quindi la 50, la 100 e la 200 periodi. Quindi queste, quando io... Cosa succede? Un attimo perché è un problema con... Con GoToWebinar. Ok, allora, dicevo, quando questo, diciamo, pattern si verifica su una media mobile, allora io cerco sempre di cavalcare comunque questo tipo di segnale, e quindi sull'azionario poi faccio anche delle verifiche di analisi fondamentale, e cerco sempre di, appunto, di avere un timing esatto, corretto. Allora, questo ovviamente sull'azionario, adesso voi direte cosa c'entra con il Forex, adesso ci arriviamo. Allora, quindi questa è un po' la nascita del pattern, che da dove nasce il perché appunto salta fuori questo tipo di analisi tecnica. Ok, quindi la struttura del pattern, che poi già l'ho spiegata nel... facendo adesso l'analisi di Facebook, deve avere una falsa rottura, quindi falsa rottura al primo punto, il secondo deve avere almeno tre barre rialziste dopo la falsa rottura, e avere una barra contro trend. Dopodiché si può piazzare un ordine, un buy stop, sul massimo di questa barra contro trend, quindi deve essere una barra, appunto, contro trend, ma deve essere chiusa, quindi in close, oppure una barra di bassa volatilità, che adesso tra poco spiego bene. Quindi sostanzialmente questo pattern è composto da quattro punti fondamentali, quindi c'è una falsa rottura, dopodiché c'è un arrivo di tre barre rialziste o ribassiste, perché nel Forex e con gli indici vale anche il discorso in short, bisogna poi attendere un respiro delle barre rialziste e andare poi a piazzare degli ordini pendenti, quindi con questo pattern si lavora solo con ordini pendenti, quindi non si entra al mercato direttamente. Ok, questa è l'onda dell'RSA, adesso ve lo spiego magari anche direttamente sul grafico. Vediamo se ribecco quella del cable, che era molto bella. Ok. Allora, la falsa rottura. Sì, Max, solo ordini by stop o self stop. Allora, come identificare una falsa rottura in modo oggettivo? Perché qualcuno può dire, ok, come faccio ad identificare la falsa rottura? Per alcuni, tra l'altro, nemmeno esistono queste false rotture, però io sono dell'idea che comunque l'analisi tecnica dia dei buoni input, delle regole che poi se seguite possono portare comunque a dei buoni risultati. La falsa rottura si può identificare attraverso i fractal. I fractal sono questo indicatore qui, queste frecce in basso, vedete che vi segnala l'ultimo swing. Il fractal, per confermare la, appunto, come indicazione di avvenuto swing, devono passare, dopo appunto un minimo o un massimo, due barre in chiusura. Dopodiché questo segnale che vedete viene confermato. Attenzione perché i fractal a volte, se fanno un massimo o un minimo, e poi c'è solo una barra di respiro, e poi fa di nuovo quel massimo o il minimo, vi fa repaint. Quindi magari quando siete in training live, magari vedete formarsi comunque il fractal, ma dopo un po' sparire. Quindi non vi allarmate perché proprio il fractal per confermarsi ha bisogno di altre due candele dopo il minimo o il massimo, in modo tale che quello swing venga confermato. Quindi, una volta identificata la falsa rottura, falsa rottura perché? Perché vedete c'è questo livello di fractal, poi il prezzo cerca di rompere questo livello andando a formare un altro fractal. Io questa falsa rottura, oggettivamente, quindi io la vedo qui, una volta che apre questa barra. Quindi una volta che apre questa barra, questa situazione qui, quindi questa situazione, questa situazione, è confermata. Quindi io sono sicuro che non mi farà più repaint e quindi poi posso fare anche tutti i backtest che voglio. Quindi vedete che il prezzo ha cercato di rompere questo livello qui. Io non entro adesso al mercato, non avrebbe alcun senso. Ma che cosa faccio? Aspetto che arrivi un'onda rialzista a confermarmi che questo livello qui non è più short, quindi non c'è più una situazione di short. Quindi arrivano, chiamateli come volete, arrivano i compratori, perché qui qualcuno sta comprando, visto che ci sono queste tre barre forti rialziste. Quindi significa che c'è qualcuno che sta entrando long, chi sta chiudendo le posizioni short e quindi si aspetta una fase di respiro nuovamente da queste onde rialziste, che è questa barra rossa, questa qui. Dopodiché si piazza un buy stop sul suo massimo. Quindi questa barra qui deve chiudere. Una volta che chiude questa barra, io posso piazzare un buy stop sul suo massimo e quindi poi lavorarlo in questo modo con lo stop loss e adesso passo anche quindi seguo un attimo le indicazioni che mi ero dato con con le slide perché non vorrei dimenticarmi qualcosa. Andiamo a vedere. Sì, faccio prima lo stop loss così poi passo alle onde dell'RSI. Quindi lo stop, magari anche molto intuibile, se questa è stata identificata come una falsa rottura, questa zona qui, va da sé che lo stop loss potrebbe essere posizionato sotto questo minimo perché se il prezzo deve andare dalla parte opposta questo minimo potrebbe essere un minimo significativo e quindi lo stop loss potrebbe venire piazzato in quest'area qui. Vedete qui, anche qui c'è se vogliamo una leggera divergenza dei prezzi, però diciamo che non è fondamentale nel senso che la versione io lo trado anche quando non c'è la divergenza sull'RSI. Quindi va bene anche se non c'è proprio questa divergenza netta. L'importante è che ci sia questo tentativo di falsa rottura. Dopodiché deve esserci appunto l'onda rialzista come in questo caso e il dove mettere il take profit. Allora il take profit può anche qui dobbiamo essere abbastanza diciamo che qui un po' il livello di discrezionalità si alza. Allora possiamo puntare al successivo alla successiva resistenza che vediamo che non è stata ancora colpita quindi questo livello qui è accontentarci di arrivare a questo a questo target oppure come piace a me alzarmi di un time frame allora non c'è da tutti i disegni alzarmi di un time frame e magari andare a colpire una resistenza molto visibile che ne so una non so quanti di voi seguono la la tecnica che le doji o queste ombre molto magari mi metto le candele che queste ombre qui prima o poi il prezzo le va a ricoprire quindi magari chi segue questo tipo di tecnica vedete che è molto vistosa sull'H4 quindi se io sono entrato in questa zona qui posso decidere o di andarmi a fermare su questa prima resistenza oppure puntare alle resistenze successive alzandomi in un time frame posso farla anche sul grafico daily nessuno mi vieta di alzarmi i time frame per ovviamente aumentare risk e reward a mio favore e cercare quindi appunto di massimizzare i guadagni poi sulla parte finale farò vedere quello che sto facendo io adesso con il conto di prova quindi il conto studio dove cerco sempre di crearmi delle situazioni piramidali ammetto che non lo faccio sempre però dipende un po' dalla situazione anche di mercato diciamo che questo pattern a me non piace essere troppo rigido nelle regole l'importante è che si seguono delle regole diciamo precise sul timing e poi si può creare anche una sorta di gestione però dandosi comunque dei riferimenti poi comunque anche la discrezionalità sapete meglio di me a volte anche l'esperienza del trader è fondamentale quindi questa è la situazione del pattern e cosa sono le onde dell'RSI allora praticamente le onde dell'RSI mi servono per capire se sono in prima onda rialzista o no ad esempio sempre tornando sul GPB io vedo che questa prima onda rialzista in effetti è anche sull'RSI perché cosa fa l'RSI dopo che è andato a scaricarsi quindi andando appunto sul sul livello mi fa questa onda rialzista e quindi vedete come l'RSI passa da una zona di iperventuto a una situazione di ipercomprato questo è un RSI sul due periodi vedremo che non è sempre l'RSI è in prima onda rialzista perché a volte fa del laterale dopo la dopo la rottura di un livello e quindi a volte mi può segnalare che non c'è un reale una reale rottura perché magari mi fa una situazione di lungo laterale per poi farmi magari anche le onde rialziste però magari è anche un falso segnale quindi ad esempio per farvi capire se questa onda qui questa onda qui che adesso vi faccio vedere questa qui quindi queste barre queste barre non è la prima onda rialzista perché se vediamo l'RSI è possibile farlo anche attraverso la semplice analisi tecnica però che cosa fa l'RSI mi ha fatto è passato da iper venduto a iper comprato poi mi ha fatto la barra contro trend quindi il respirato e poi mi ha fatto una nuova onda rialzista quindi una cosa è riuscire a entrare qui e un'altra cosa è entrare in questa situazione perché anche qui abbiamo 1,2,3,4,5,6 barre rialziste quindi non è vietato entrare perché a volte lo faccio lo faccio anche perché comunque ho preso abbastanza familiarità con questo tipo di pattern però una cosa entrare appunto sulla prima onda rialzista dell'RSA è una cosa farlo quando già è avvenuta una prima onda rialzista e entrare sulla seconda onda rialzista mi comporta due problemi uno che ovviamente il target il primo target potrebbe essere già stato preso e l'altro che ovviamente potrei entrare in ritardo ok allora nel frattempo che devo un goccio d'acqua fatemi sapere in chat se è abbastanza chiaro il pattern allora intanto cancello sì allora l'RSI Paolo è settato su due periodi vale su tutti i time frame vale su tutti i time frame ovviamente i falsi segnali sui time frame minori sono più frequenti perché abbiamo più pattern rispetto ovviamente a un grafico h1 h4 daily adesso vediamo anche qualche situazione non le trado oggi perché c'è il funk tra poco però vediamo qualche situazione l'avevo anche vista in precedenza quindi allora impostare il take profit abbiamo visto sul primo diciamo sulla prima resistenza o supporto ancora che non è stata colpita i filtri di tendenza applicabili quindi possono come ho già spiegato prima il pattern deve trovarsi a ridosso di una media mobile quindi a 50 100 o 200 periodi magari trovare anche delle conferme nelle false rutture con le divergenze dell'RSI e contare le onde dell'RSI come vi ho fatto vedere prima allora una cosa anche interessante che io cerco sempre di ottenere col pattern è una gestione piramidale cioè cerco di sfruttare la frattalità dei vari time frame cioè se io identifico il pattern su M30 nessuno mi vieta di poi alzarmi di time frame una volta che sono entrato su M30 e andare a cercare lo stesso pattern sull'H1 o sull'H4 in modo tale o anche sull'H4 o anche sul daily fino ad arrivare a un target weekly ovviamente lo stop andrebbe adeguato di volta in volta per evitare di aumentare l'esposizione al mercato perché vediamo se riesco a farvi vedere un esempio allora mettiamo che caso che io fossi entrato qui su H1 vediamo se su M30 c'è qualcosa no sull'M30 lo stesso livello di entrata ecco allora vedete questa è la barra dove sono entrato sull'H4 poi avviene lo stesso tipo di pattern quindi io potevo entrare in questa situazione su questa massimo e quindi avere due posizioni per portarmene magari sulla prima resistenza weekly molto importante che poteva che può essere questo livello qui e quindi cercare di costruirmi una situazione piramidale per arrivare poi alla prima resistenza sul weekly qui ci vuole molto pazienza sicuramente diciamo che non è adatto a tutti perché molti vogliono comunque preferiscono prendere il take profit però dai dati che ho avuto adesso vi mostro qualche dato allora su my fxbook allora vedete su my fxbook si sono avute delle giornate molto positive queste linee che vedete proprio perché la piramidazione è andata a buon fine ad esempio una piramidazione molto bella che è stata fatta con questo tipo di di tecnica sul euro nzd quindi due entrate su due time frame diversi stesso pattern che hanno portato poi alla comunque a far crescere il conto e anche a coprire magari i loss perché ovviamente non è immune dai loss poi anche un'altra molto bella sul bitcoin un'altra ecco vedete sul sul dax allora sul bitcoin c'è questa entrata poi questa qui quindi vedete che si può anche fare sulle criptovalute e quest'altra quindi tre entrate portate fino al grafico weekly magari qualcuna vediamo adesso anche facciamo questa qui euro yen vedete euro yen molto da manuale falsa rottura qui non ci sono i fractal me li metto un attimo così quindi falsa rottura di questo fractal allora io prendo gli swing diciamo che per mia discrezionalità mi prendo lo swing però potete prendere anche l'ultimo fractal vedete in questo caso qui se voi foste stati in real avreste visto il formarsi del fractal qui su questo minimo dopodiché il prezzo ha fatto una barra contro il treno ma subito dopo è andato a fare il minimo quindi in questo caso avreste visto la la comparsa del fractal ma poi successivamente la la sua scomparsa perché appunto questo questo indicatore fa repente quindi però basta sapere appunto qual è la la logica quindi vedete questo minimo l'ha andato a rompere però poi non c'è riuscito sono arrivate le barre rialziste è entrata è stata fatta su questa barra contro trend quindi anche prima onda rialzista dell'RSI subito dopo la rottura qui non c'è sostanzialmente allora se la prendiamo larga questa divergenza prendendo questo punto la divergenza c'è perché qui ha fatto divergenza e c'è la divergenza quindi poi sono arrivate le barre rialziste barra contro trend o riduzione di volatilità cosa significa che rispetto alle precedenti c'è stata una compressione della volatilità quindi è un ottimo diciamo punto per poter entrare le barre di volatilità più basse potete averle con l'ATR basta andare a diciamo comparare un ATR a un periodo che quindi corrisponde alla barra alle ultime N barre quindi in questo caso io prendo di riferimento l'ATR a 100 periodi l'ATR a 100 periodi mi dice che in questo momento la volatilità su euro yen era di 59 pip ma questa barra contro trend di volatilità era di appena 10 pip quindi circa 5 volte inferiore alla volatilità media quindi poteva essere un buon punto di entrata sia per un risk reward vantaggioso perché questo quando ho presentato questo pattern in chat molti utilizzano anche soltanto un'entrata molto aggressiva che però sconsiglio cioè entrare qui e mettere lo stop loss qui sotto è molto aggressiva come entrata quindi per me lo stop loss giusto è qui sotto però alcuni lo stanno utilizzando in questo modo entrano qui poi magari il prezzo ritorna gli va a prendere lo stop quindi sono entrati con una determinata sites continua a scendere e fa delle barre contro trend e provano una seconda entrata quindi magari aumentando anche la sites fino a che diciamo provano fino a che non viene invalidato questo pattern andando sotto questo minimo quindi anche questa è una è una tecnica che io vi ho riportato però molto aggressiva però nessuno vieta di utilizzarlo come meglio crede l'importante è comunque seguire una struttura e da lì puoi magari adeguarsi ok allora vediamo Antonio mi chiede su di valutare il pattern sul gold vediamo così vediamo anche allora il gold il gold no attualmente su che grafico Antonio vediamo se lo individuo ecco ecco allora sul grafico M30 vediamo la rottura c'è stata però vedete che cosa è successo è qui non siamo in onda uno di RSI perché qui l'RSI in questo caso è già passato da una situazione di iper comprato in questo caso fino a toccare l'iper menduto quindi per questo è anche importante contare le onde dell'RSI perché c'è il primo e quindi sono già in terza in seconda ondata rialzista ribassista scusate quindi la posso fare ovviamente la posso fare se appena arriva una barra verde contro trend e provare andare a prendermi questi minimi o questo o questo con uno stop qui però diciamo che non è il pattern standard è una versione aggressiva si può fare assolutamente nessuno lo vieta allora Antonio dice un po' come prendere l'onda allora Antonio dice come prendere un po' l'onda 3 l'onda 3 di Elliot l'onda 1 io Elliot non l'ho mai studiato quindi Antonio non so però magari ci sono delle similitudini come ho detto prima all'inizio alcuni dicono che appunto è un cino di Ross però poi uno quando guarda i grafici magari anche poi io ho letto molti libri anche di Ross quindi magari ho qualche sicuramente qualche influenza ha avuto su questa costruzione del pattern però vi assicuro che diciamo che è nata appunto solo sull'azionario perché sull'azionario non lo notavo spesso e mi dicevo cavoli ogni volta che c'è questo pattern se i dati sono buoni della società è un buon un buon momento per magari comprare e quindi anche mettere degli stop e quindi cercare un risk reward molto a favore allora vediamo Massimiliano dice forse ne sta formando uno su USD Yen USD Yen H1 esatto allora USD Yen si sta formando allora mi dai anche la trovo lo spunto per far capire perché è importante aspettare le barre contro trend e utilizzare degli ordini pendenti allora vedete qui qui c'è stata la falsa rottura ci sono arrivate le onde ribassiste quindi prima onda ribassista dell'RSI quindi 1 2 3 4 candele rosse e quindi nelle barre contro trend nessuno appunto ci sono delle barre contro trend quindi io qui potevo entrare short ovviamente andando a lavorare sul minimo vedete che l'entrata non c'è mai stata perché che cosa succede questa è l'onda ribassista quindi prima onda di contro trend è questa la prima barra io quindi devo piazzare un sell stop qui sotto ma non entra il prezzo non ci arriva poi c'è un'altra barra contro trend quindi rialzista alzo questo sell stop questa cosa non l'ho detta quindi lo devo posizionare qui ma non entra lo stesso su questa barra non mi interessa più entrare short perché questa situazione è stata invalidata quindi adesso la situazione si è capovolta e quindi devo guardarmela long quindi aspettare adesso che usdjn faccia siamo su un'onda siamo sulla media mobile quindi siamo anche in prima onda dell'rsi io mi vado a guardare perché a me piace andare a prendere i target sul weekly e magari costruirmi una posizione piramidale quindi qualora dovesse entrare quell'ordine lì long il target sarebbe questo questo questa resistenza 114 e 60 quindi sì sì massimiliano c'è c'è un potenziale a informazione allora vediamo se c'è allora il filtro di tendenza l'ultima un'ultima cosa è sicuramente utile perché comunque non vi fa lavorare contro trend però a volte si perdono magari delle buone situazioni come in questo caso su usd cad vedete falsa rottura di questo livello tre onde rialziste poi fa vedete che barra di volatilità bassa questa qui quindi qui c'è chi entra in maniera aggressiva si mette lo stop addirittura qui sotto perché appunto vuole il massimo del rischio rendimento a favore però anche qui lo stop era da manuale però qui il problema è che il filtro di tendenza vi impedisce di entrare vi impedisce poi se appunto avete comunque su sdcad avete fatto delle analisi che non c'entrano nulla con una semplice media mobile che vi dice che appunto deve salire andarsi a cercare un ingresso con questo pattern non è sbagliato allora vediamo cancella tutto allora siccome questo tipo di pattern è stato presentato in chat più di più di una volta sono nati dei progetti che tra cui anche uno screener che vi facilita le cose e vi permette già di identificare il pattern questo screener non l'ho fatto io ma non so se c'è Valerio in chat appunto vi ho dato il link per venire su telegram poi chi fosse interessato contatta direttamente Valerio perché io su questo tipo di screener non ho diciamo potere decisionale perché appunto non avendolo fatto io non so dirvi quali sono le modalità con cui Valerio rilascia questo screener però per darvi l'idea di come comunque si sviluppano i vari progetti in chat c'è questo screener che già vi fa vedere il pattern su questo poi ci sono delle caratteristiche che si possono andare a mettere come ad esempio decidere se si vuole vederlo solo sull'M5 sull'M15 poi il template quindi potete mettere il template che volete l'alert quindi che vi vi dà un segnale quando il pattern compare e mettere il falso breakout oppure no perché nei nei vari progetti che abbiamo seguito in chat diciamo che molti lo utilizzano anche senza aspettare il falso breakout nel senso molto nudo e crudo quando vedono 3 barri alziste o 3 barri bassiste si attivano se poi fa una barra contro trend molto molto ristretta quindi con poca volatilità entrano senza dover aspettare la falsa rottura quindi su questo screen potete già decidere se avere se avere la falsa rottura oppure no qui non ci sono non c'è il filtro falsa rottura quindi non so eurocad vedete eurocad vi ha segnalato il pattern qui in questo caso c'è anche la falsa rottura quindi non entrerei in questo vediamo se qualcuno mi ha seguito perché non entrerei in questo caso allora il pattern c'è tutto però perché non entro vediamo bravo Gianfranco sì per la media mobile l'RSA in realtà c'è la prima onda perché vedete che da iper venduto è passato iper comprato quindi prima onda io dovrei piazzare un buy stop qui sopra però c'è la media mobile contro in questo caso non dovrei entrare però si è rotto il minimo per l'entrata aggressiva diciamo che chi fosse entrato adesso long quindi diciamo tra virgolette fregandosene della sia della media mobile che dello stop loss qui sotto avrebbe già preso uno stop quindi entrando qui avrebbe preso uno stop ok allora poi un altro progetto molto interessante che è nato sempre della chat questo poi ve lo do gratuitamente per chi lo vuole testare è l'expert cerchè salvatore se c'è in chat lo saluto ciao salvatore ha creato proprio anche l'expert che entra direttamente senza troppi problemi basta andarlo a inserire sul grafico si può dare la direzionalità quindi scegliere la direzione se si vuole andare solo long o short per esempio andare solo short oppure voglio che apra sia le posizioni long o short quindi dico no no vedete entrerà in bidirezionale si può mettere in stand by l'expert quando già avete preso magari profitto oppure non volete operare c'è il tasto chiudi tutto e il tasto apri trade nel caso qualche pattern vi sia sfuggito quindi magari state costruendo una piramide avevate la piattaforma spenta l'aprite magari siete entrati sull'h1 sull'h4 c'era un bellissimo pattern ma che non siete riusciti ad ad entrare e e quindi e quindi magari fate un apri trade se è vicino al prezzo di entrata e potete gestirlo poi la profit line basta creare ad esempio se volete che l'expert dopo l'entrata vi esca in questa situazione basta spostare questa profit line quindi per le buy e verde metterla qui e l'expert costruirà le sue posizioni piramidali appunto sul grafico e uscirà dalla situazione non appena verrà toccata questa profit line anche per lo short vale lo stesso discorso ad esempio se volessi costruirmi una appunto pattern in questa situazione con un target in quest'area si può fare quindi poi fa tutto l'expert per questo poi questo qui viene dato non so se ve lo do in real perché voglio prima vedere appunto un riscontro che il pattern sia chiaro perché metterlo così senza sapere di che cosa che cosa state mettendo sul grafico è rischioso quindi magari però sulla demo ve lo faccio provare tranquillamente poi il solito discorso io metto la registrazione su facebook poi voi lasciate il commento sotto e vi mando l'expert solo per la funzione demo e poi se c'è qualcuno che mi dice magari che ha preso confidenza con questo pattern e vuole provarlo in real può farlo assolutamente allora domenico mi chiede ma esiste qualche report statement allora domenico sì io allora noi tutto quello che facciamo su questa chat telegram e chi mi segue e lavora con me a questi progetti sa che ogni ogni cosa che noi andiamo a proporre deve essere deve avere un riscontro deve avere un riscontro statistico non perché voglio far capire quanto io sia bravo non mi interessa perché molti di questi progetti che ho anche proposto negli anni stanno perdendo come ad esempio l'ultima strategia e non mi vergogno assolutamente a dirlo questa qui che abbiamo fatto vedere il termometro Forex attualmente è in sofferenza quindi sto gestendo una fase di drawdown ma per avere un riscontro solo statistico quindi sullo swing trading come ho fatto vedere prima che è su questo conto poi che ho fatto vedere questo qui dove abbiamo fatto le analisi c'è questo MyFXbook su conto reale quindi che con micro lotti quindi perché il mio interesse non è quello di andare a guadagnare perché io lo dico sempre lo ripeto non mi definisco un trader ma più che altro un ricercatore quindi molti progetti che io propongo li propongo in maniera del tutto gratuita perché mi serve anche per me andare a a conoscere delle persone che ne sanno molto più di me e quindi grazie alla appunto alla chat di Telegram io ho avuto la fortuna di conoscere molte persone molto preparate appunto come Salvatore come Valerio come Neo che hanno creato hanno trasformato le mie idee appunto in expert in screener e quindi con questo lavoro di team si riesce comunque a crescere e a dare dei progetti magari che hanno anche un senso quindi su questo qui lo swing trading abbiamo una performance attualmente su dal 2017 che lo stiamo provando da novembre ha chiuso diciamo due mesi negativo quello più clamoroso è stato a febbraio dove ha perso l'1,72% quindi con micro lotti sicuramente è stato un periodo comunque dal punto di vista statistico preoccupante però la cosa che sicuramente emerge da quest'analisi è che si ha un ottimo rischio rischio rovina perché siamo superiore a 500 trade e anche un buon profit factor vediamo un po' come andrà io comunque ogni ogni mese cerco sempre di portare avanti questa statistica quando ovviamente in base ai miei impegni non sempre riesco quindi per questo io poi vi condivido questi vi condivido a 360 gradi i miei studi in modo tale che chi poi vuole può crearsi il suo myfxbook e confrontarlo con quello che faccio vedere io che altro allora vi faccio vedere anche un altro tipo di questo è un po' più complicato un altro progetto sempre che è nato dallo swing trading qui praticamente è un anche qui è uno screener ma anche un expert praticamente fa un po' tutto lui nel senso che vi va a segnalare i vari swing sul forex e poi crea anche delle piramidazioni è molto è sicuramente molto complicato perché ci sono tantissime variabili questo è un progetto di Nio il nick di Telegram quindi se venite poi sulla chat di Telegram trovate Nio potete fargli comunque tutte le domande che volete e lui diciamo che sicuramente non è semplice di primo impatto non ve lo spiego adesso perché sarebbe impossibile però lui che cosa ha fatto ha unito diversi le indicazioni dello swing trading con diverse col pattern swing perché è più corretto chiamarlo pattern swing con vari indicatori quindi potete filtrarlo con le bande di Bollinger la media mobile gestire in piramidale oppure no quindi è sicuramente molto molto è complicato però anche molto avvincente come come expert quindi su questo però comunque è diciamo un work in progress ma poi tra l'altro la nostra chat si chiama work in forex e non a caso c'è l'immagine di diciamo di un segnale stradale che si trova quando ci sono i lavori in corso di un di uno studente a computer quindi proprio perché sono sempre dei progetti e quindi ribadisco che non è il santo graal perché chi cerca il santo graal sicuramente questa chat non fa per lui però con lo studio con i progetti nascono tante belle idee che poi possono essere sviluppate e allora poi l'ultima cosa e chiudo perché siamo arrivati a un'ora l'ultimo punto diciamo questa è un po' una simulazione perché sulla base dei rendimenti attuali di questo anche un po' per aprire un po' gli occhi dai guadagni facili perché il 10% su un anno per alcuni può sembrare poco però tenete conto che sono comunque sono delle dei rendimenti medi e sicuramente anche molto buoni rispetto rispetto alla totalità perché avete visto la la percentuale dei retail che perde sul mercato del forex noi come Ticmill e io come soprattutto come country manager e trader sto cercando di portare una buona formazione quindi anche di fare aprire gli occhi contro i guadagni facili perché fare il 30 e il 40% al mese vi assicuro dalla statistica che abbiamo ci riesce soltanto uno su 10.000 persone quindi qualcosa che non è sostenibile sul lungo periodo quindi diffidate da chi vi fa vedere gli statement o gli screenshot dove vi fa guadagna cifre mostruose perché non sono sostenibili quindi quanto tempo ci vuole per raddoppiare un conto facendo il 10% facendo appunto il 10% all'anno ce ne muoiono 7 anni e 3 mesi quindi se fate il 20% ovviamente riuscite a raddoppiare il conto in 3 anni e 9 mesi l'unico modo a mio avviso per accelerare queste performance ma non lo dico io ce ne sono molte persone che propongono questo tipo di tecniche è sfruttare interesse composto e quindi fare dei piani di accumulo perché 10.000 euro dopo 10 anni con un rendimento annuo del 10% sarebbero 25.937 euro lo stesso capitale ma e quindi stesso rendimento ma versando una somma mensile aggiuntiva grazie all'interesse composto lo vedete da questa tabella diventano 47.554 euro quindi questo volo allargo vedete come grazie all'interesse composto e al a un piano di accumulo si possono raggiungere delle cifre comunque importanti con un 10% all'anno quindi non stiamo parlando di cifre assurde un 10% all'anno vi può portare a questo tipo di risultati però ci vuole impegno e pazienza e quindi non anche disciplina perché non è facile comunque riuscire ad essere sempre sul pezzo soprattutto poi quando si viaggiano su queste cifre basse perché per molti questo il 10% all'anno non è nulla ma vi assicuro che comunque sono rendimenti di tutto rispetto ok allora io ho finito con il webinar allora massimiliano sì dai vediamo l'ultimo su cad yen allora cad yen io ne avevo visti anche qualcuno su eccolo questo qui su ch f yen falsa rottura quindi prima onda ribassista barra di respiro contro trend quindi se il stop o sotto questo minimo o anche su questo quindi target diciamo che sarebbe questo tecnicamente allora cad cad yen cad yen cad cad yen sì c'è allora questo il fractal non te lo segna vediamo se mi sbaglio sì allora il fractal se segui la rottura del fractal dovresti entrare qui short su questo livello qui ma il problema è il filtro di tendenza a meno che tu non stia vediamo sulla 50 no comunque non avresti il filtro di tendenza a favore ma se diciamo non vai a vedere il filtro di tendenza tecnicamente su questo doppio massimo qui quindi con la prima ondata ribassista aspettare una barra contro trend questa qui utile perché questa qui sotto mi aiuto meglio con la penna vedete il minimo qui entrare adesso comunque si può fare vedete l'RSA non è proprio in una situazione non è andato prima a scaricarsi del tutto come vedete in questo caso dove si scarica del tutto qui non si è scaricato quindi in teoria potresti anche essere sulla seconda ondata ribassista tecnicamente si vede molto bene questa che sei in seconda ondata ribassista ma nel caso volessi seguire l'oggettività mettiamo per buono che sia la prima ondata ribassista perché comunque l'RSA anche se di poco ma comunque ha scaricato l'entrata si potrebbe mettere qui appena chiude questa barra comunque lo stop sarebbe adesso qui sotto su questa barra di volatilità bassa e quindi poi andare a cercare di entrare in sell stop appena si ferma questo prezzo e quindi lo stop qui sopra Antonio dice è partito come hai detto us di yen allora vi assicuro che adesso una volta che prenderete di mistichezza con questo pattern non potrete fare a meno di andarlo a vedere anche quando magari non volete tradarlo dite ah ecco il pattern swing almeno quello che succede a me us di yen poi chiudo sì us di yen adesso è partito quindi questo vediamo da monitorare è un ottimo diciamo il pattern perché si trova sulla media ha fatto la rottura quindi bisogna adesso aspettare una barra contro trend e vedere di andare a cercare il long qui sopra e sull'h4 se non lo fa adesso ma questa questa situazione qui molto probabilmente la andrà a rivedere quindi vedete l'h4 mi sono fissato un target questa qui se adesso poi la fai e sono a computer è un trade che farò proprio perché comunque c'è l'onda rialzista c'è tutto è molto da manuale quindi vediamo come si evolverà ok grazie a te max ci sentiamo in chat vi rimando la chat perché non so come mai ma non si vede da team viewer me la rimando intero gruppo ok poi per tutti i progetti che vi ho fatto vedere quelli che non gestisco io personalmente dovete chiedere direttamente a chi ha creato sia lo screener quindi sia Belerio che Nio per testare Lea di Salvatore in demo basta che poi appunto domani sulla registrazione lasciate un commento e da lì poi vi mando l'expert va bene allora grazie a tutti per aver visto questo webinar e vi do appuntamento al prossimo mercoledì non so ancora di che cosa parleremo però sicuramente dico qualcosa altro di altrettanto interessante grazie a tutti buona serata grazie a tutti grazie a tutti